Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. A sei anni dal terremoto, il piccolo comune di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, tra i più colpiti nel 2016, sta accusando, come tutti gli altri, dei ritardi nella ricostruzione, che per una realtà minuta come questa potrebbe significare la disgregazione e una fuga dai luoghi. La situazione attualmente sta un po' in impasto, perché ci sono degli uffici che purtroppo tardano un pochino ad approvare le pratiche, quindi devo ricorrere sempre alla parte politica per sollecitare e non va bene, perché i dirigenti dovrebbero prendersi un po' più di responsabilità. La comunità di Monte Cavallo, paesino che conta ad oggi nel 2022 102 abitanti, ancora rimane coesa, nonostante una popolazione anziana che se ne va per il ciclo naturale della vita, ma i pochi giovani, adulti e in età da lavoro necessitano di garanzie per rimanere nei luoghi nativi. Il tessuto sociale ed economico, nonostante il terremoto e poi la pandemia, ma adesso questa crisi sta tenendo? Con questa crisi, al di là, e con il Covid aveva retto abbastanza bene le poche attività che c'erano a Monte Cavallo. Stanno un po' in difficoltà attualmente con l'aumento dell'energia elettrica, con questa crisi che ci ha portato la politica italiana e europea. Pensa riuscirà a tutelare le sue attività commerciali? Io lo spero, però se non arrivano i rimborsi per la corrente elettrica, che gli aumenti dell'energia elettrica addirittura sono raddoppiati, se non triplicati, il Comune può ben poco ai privati con le attività produttive per dargli una mano. Che cosa vede nel futuro di Monte Cavallo? Io vedo una certa ripresa, perché stiamo cercando in tutti i modi di riportare alcune persone nelle residenze del Comune, quindi speriamo di riuscirci. Ci hanno dato un fondo a livello ministeriale, l'hanno preso pochissimi comuni, noi ci stiamo e cerchiamo di dare una svolta a chi apre, un aiuto concreto a chi apre le nuove attività a Monte Cavallo. Sul versante ricostruzione è notizia di questi giorni, inoltre, la firma di un protocollo di intesa nella sede del Ministero della Giustizia, che prevede che detenuti in dieci province delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Marche e Umbria avranno l'occasione di lavorare nei cantieri. Saranno impegnati in oltre 5.000 opere di ricostruzione. L'obiettivo del protocollo è quello di aumentare le opportunità di lavoro, strumento indispensabile per il pieno reinserimento sociale. L'accordo, precisa Lignini, è denso di significati. Consentire ai detenuti, che ne hanno titolo, di lavorare nei cantieri pubblici e di ricostruzione delle chiese, nelle enorme cratere del centro Italia e per le imprese, di formare e utilizzare personale motivato e dare un contributo a tale importante finalità pubblica.